C'hai suonato due pezzi che faremo sentire poi al nostro pubblico tratti da questo progetto con Patrizia Cavalli. È un libro, cd, di poesie e canzoni. Ce ne vuoi parlare un po' come è nata questa collaborazione? Beh, per me è stata veramente una magia perché io sono una grande ammiratrice di Patrizia Cavalli e ovviamente non la conoscevo di persona ma leggevo le sue poesie sempre. Praticamente avevo questi libri con me ovunque. Poi è successo che siccome lo avevo ovunque, un giorno che lo avevo sul pianoforte, stavo leggendo e queste parole hanno preso così una forma musicale senza veramente volerlo io. Con delle note sotto al pianoforte mi è sembrata tipo è nata una canzone da una poesia. Per me è stato veramente un miracolo perché avendo una struttura che non è una struttura da canzone invece rispettava perfettamente la melodia che avevo composto all'inizio con la strofa e il ritornello. Insomma, mi sto complicando la questione, però il ritornello non era lo stesso, erano parole diverse eppure coincidono perfettamente con la melodia. Quindi mi è sembrato un segno del destino. Allora le ho scritto. È stata fantastica perché inizialmente non aveva capito la mia musica, la mia composizione. Le sembrava strana, destrutturata, fluttuante. Perché lei è abituata alle canzonette, quelle che sono semplici, te le ricordi, te le ricanti. E quindi io invece avevo trovato, avevo scelto una poesia che non aveva rime. Avevo fatto tutta una musica che cambiava proprio, aveva anche tonalità più volte. E questa la possiamo ritrovare nel CD? È Diventai Buona, la primissima che appunto mi è... No, Diventai Buona. Tu hai un curriculum che forse non si conosce, ma hai delle collaborazioni eccezionali. Sin dall'inizio, hai cucito con uno dei più grandi artisti italiani, internazionali. Insomma, si può dire che sei Tiziano Ferro, con cui hai collaborato per diversi brani. Sì, due brani che sono stati due singoli importanti. Sono felice, insomma, di questa collaborazione. Cosa vuol dire lavorare con una persona così giovane e appartenente allo Star System internazionale? Forse non lo era ancora, però lo era. No, no, lo era già, lo era già. Però la cosa, diciamo, che forse ha reso possibile questa collaborazione è che noi eravamo amici già da tempo, perché ci siamo conosciuti proprio in quegli anni, l'Una, proprio eccetera, in cui io stavo con il plastico e lui era appena uscito con... Lui faceva il vocalist prima, no? Lui faceva addirittura lo speaker di una radio che mi fece un'intervista. Ci siamo conosciuti e siamo diventati molto amici. Quindi non era più... Quando abbiamo scritto queste canzoni non è stato, diciamo, così... Non è stato un lavoro, come dire. Senti, dopo Tiziano, che è una collaborazione che è durata molto come autrice, co-autrice, no? Sì. E che cosa hai fatto? Ho visto che c'hai Marco Fabbi, Barbara Eramo... C'è Chiara Civello, Anna Carolina, Anna Carolina è una bravissima cantautrice brasiliana, molto nota. e... Tiziano di un'abilità ogni tanto mi perdo qualche tipo... Berlino, Weimar, Hamburgo, Kiel, Kiel, Iena e da poco New York. Cosa sono queste cose che ho detto? Sono una città che ho la fortuna di vedere e soprattutto ho la fortuna di andare in questi posti a suonare, diciamo che è un privilegio. Diciamo, hai un tour? Ho un tour tedesco, sì, sì, che adesso inizia il 14 maggio, parto e saremo appunto... saremo io e i miei pedali. Non è vero che la musica italiana non si riesce ad esportare in Europa, ci sono dei bacini che accettano e che amano questo tipo di musica? Io in effetti non pensavo fosse possibile, no? Cioè, sono sempre in italiano, però poi a meno che non fai le canzoni proprio pop, quelle appunto magari più vendibili in Sud America, come la Pausini, anche certe cose di Sanferro, dico, il resto mi sembrava un po' difficile da collocare, diciamo, all'estero. E invece con grande stupore e grande gioia mi sono ritrovata, senza neanche volerlo, ad andare a New York, mi hanno invitato lì alla Casa Italiana della New York University, anche perché c'è la Patrizia Cavalli, eccetera. e con l'occasione ho girato lì, ho fatto sette concerti, sette concerti, devo dire, guarda, che è stato incredibile per me proprio pensare che io cantassi in italiano e che loro stavano lì che non fiatava una mosca, una, eh? E che erano così entusiasti, curiosi, rapiti e mi hanno proprio, grazie a questo entusiasmo, mi hanno poi coinvolto in altre serate, eccetera. Mi sono veramente, che ti posso dire, mi sono illuminata. Volevo, volevo chiederti, ecco, nella musica italiana adesso, se hai qualche, qualche collaborazione così. Una collaborazione con una, con una autrice, una neo-autrice, perché, diciamo, non aveva mai scritto canzoni, e per me è veramente bella, insomma, che mi, non lo so, che mi ha stupito anche lì. E quindi, si chiama Sara De Simone, è una ragazza molto giovane, molto intelligente, brillante e ci siamo proprio trovate a scrivere queste undici, mi piace, canzone così di getto, molto originali, a mio avviso. E quindi sono in realtà desiderosa di realizzare subito questi brani. E sto aspettando un segno del destino per capire con chi. C'è un pezzo che volevo, se potevi accennare, così, un ritornello, di questi fatti con Tiziano, perché sono scivoli di nuovo. Ah, quello volevi? Sì. Io ero già pronta a fare fuori buio. Allora, vai qui. E' solo che, che quando non ritorni ed è già tardi, fuori è buio, non c'è una soluzione, questa casa sa di te. E ascolterò i tuoi passi, ad ogni passo starò meglio, e ad ogni sguardo esterno, perdo l'interesse e questo fa paura. Tanta paura, tanta paura, paura di star bene, di scegliere e sbagliare, ma ciò che mi fa stare bene, sei tuo amore. E poi. Grazie, grazie. Grazie a te, grazie.